mamma mia che paura ma dove sono finito scusa è qui che si ricicla la plastica no tesoro mi spiace qui è indifferenziata indifferenziata ma che significa significa che ci hanno ammucchiati qui senza nessuna distinzione e ora ci butteranno in discarica o in un inceneritore un inceneritore ci bruciano ma non mi hanno nemmeno mangiato ma lo sai quanta energia e le materie prime ci sono volute per fabbricarmi ti prego dimmelo muoio di curiosità dunque io vasetto sono stato prodotto in polonia ma il cappello di alluminio è made in cina e lo yogurt che ho dentro è stato fatto in francia e come sono arrivato in italia francamente non lo ricordo so solo che mi hanno buttato senza neanche mangiarmi perché per sbaglio mi hanno messo il gusto di prugna anziché yogurt magro come c'è scritto sulla confezione beh se ti può fare star meglio la storia di ognuno di noi io sono argentina figurati mi hanno raccolta cerba un mese fa imballata in un cestello di plastica come te insieme ad altre due neve e poi dentro una cella frigorifera caricata poi su una nave ho attraversato l'oceano e sono arrivata in europa dove mi hanno messo in un camion poi in un magazzino e poi di nuovo su un furgone che mi hanno dato in un centro commerciale tu che mi hanno converata e poi buttata via per questo piccolissimo neo di fianco alla bocca davvero che strano io lo trovo così sexy lo pensi davvero ma certamente puoi assaggiare evitate inutili sprechi comprate sempre prodotti locali di stagione e con imballaggi riciclati o completamente riciclabili grazie 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 grazie